Operazione antidroga My Friend ad opera della Polizia Locale di Battipaglia. Dopo diversi giorni di osservazioni all'interno della villa comunale Sita in Viedomodossola di Battipaglia, nell'ambito di servizi tesi a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti coordinati dal colonnello Gerardo Iuliano, gli assistenti capo di Polizia Locale Domenico Di Vita e Francesco Mirabella hanno stroncato una fiorente attività di spaccio intrapresa da diversi giorni ad opera di cittadini gambiani. Questi ultimi stazionavano al di sotto della passerella pedonale lato fiume Tusciano, attirando la clientela giovanile con l'approccio My Friend. Gli agenti sorprendono un cittadino gambiano intento a prelevare al di sotto di un arbusto all'interno della iula della villa comunale un involucro in cellopan contenente sostanze stupefacenti del tipo marijuana del peso di grammi 6 di infiorescenze e semi di sostanza erbacea di colore verde. Scatta il fermo del cittadino extracomunitario che a seguito di perquisizione personale viene rivenuta la sostanza stupefacente. Le perquisizioni domiciliari sono state stese presso il centro di accoglienza e struttura Il Principe ad Eboli, dove lo stesso domicilio, in quanto il cittadino extracomunitario, risulta richiedendo asilo con permesso di soggiorno temporaneo. Gli agenti hanno trovato in uno zaino telato nella stanza dell'uomo quattro involucri di cartoncino di colore bianco, singolarmente sigillati con cotone di colore nero, al cui interno vi era sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 28,452 grammi, un involucro in cellopan trasparente contenente sostanza solida marrone del tipo hashish, un bilancino elettronico di precisione, un tritino per sminuzzare la marijuana, tutti elementi costitutivi del delitto di detenzione e fini di spaccio. Il cittadino extracomunitario è stato posto in arresto e sottoposto in regime degli arresti domiciliari.